Sì, direi che il risultato ottenuto è importante, un passo avanti significativo verso la concretizzazione della realizzazione del nuovo ponte. Cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto due importanti risultati. Il primo è quello di avere garanzia che una volta completato il documento di fattibilità di Regione Lombardia, la nuova società costituita da ANAS e Regione Lombardia si farà carico della progettazione definitiva esecutiva. Una volta ultimata la progettazione definitiva esecutiva che porterà via, considerando anche la delicatezza dell'opera e l'impatto che avrà sull'ambiente almeno un paio d'anni, ANAS e il Governo si impegnano a inserire il finanziamento dell'opera all'interno del piano pluriennale ANAS che viene aggiornato annualmente e che a quel punto potrà garantire la copertura finanziaria essendo l'opera canterabile a seguito del completamento del progetto. Direi che abbiamo posto le condizioni per avere un percorso certo, dei tempi certi e anche la copertura finanziaria. A questo punto occorre non abbassare la guardia, come spesso accade in questi casi e vigilare perché gli impegni assunti e i tempi previsti vengano rispettati. Noi faremo questa parte fino a che non avremo la conferma che l'opera sarà cantierabile. Leggevo insomma i termini, i tempi tecnici dovrebbero essere alcuni anni, entro il 2021 però si parla già di un possibile avvio dei lavori. Sì, diciamo che ragionevolmente la previsione è quella. Ho detto che due anni per la progettazione definitiva esecutiva, il 2018 se ne andrà per il completamento, per la redazione anzi del documento di fattibilità e i successivi due anni ovviamente per la restante parte della progettazione. È verosimile che i lavori possano partire nel 2021. Da questo punto di vista non dobbiamo farci prendere la mano dai trionfalismi, dobbiamo sempre mantenere i piedi ben piantati per terra e dobbiamo soprattutto vigilare sui livelli istituzionali e sovraordinati, quindi regione e governo, perché mantengano la loro promessa e soprattutto perché rispettino gli impegni che hanno sottoscritto.